io non ho nessuna lista io mi miro e mi dico ah però è il tigre par io non ho nulla io non ho nulla io non ho nulla ma lui ha nulla solo il giuristico la prima la prima non è nulla adesso vada per un' père voluto solo per un pelo suolo gli odio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.